E' con grande piacere che oggi visitiamo questo luogo, un luogo magico, un luogo che abbiamo scoperto, un luogo però che ha un suo grande significato, il significato della forza della natura che riesce a sopravvivere a tutte le intemperie. Questo platano, questo albero così maestoso, così ricco di vita, che rappresenta mille anni di storia, rappresenta anche la nostra civiltà, rappresenta il nostro essere anche resistenti ad ogni intemperie e forse come in questo momento non si può rappresentare tutto questo come la forza della vita di poter andare avanti. Un momento anche per stare insieme alle prologo calabresi, per stare insieme al gruppo dirigente, al presidente Pippo Capellupo, a tutto il suo gruppo che sta lavorando molto bene per portare avanti il lavoro delle prologo e dell'UMPI a livello regionale e anche nazionale.